Sì, Cornuto? Buongiorno! E' Rita. Abbiamo ricevuto la sua candidatura. Lei è della magistratura. Abbiamo ricevuto il suo curriculum. Siccome c'è scritto solo il suo nome, volevo capire che esperienze ha avuto. Ah sì, fammi pensare. Tempo fa ho rapinato una banca. Parliamo di lavoro, non di furti. Ma faccio pochi lutti. Mi dica che cazzo so fare. So ammazzare i polli, so cacciare le lucertole. Non in quel senso. So scopare per terra. Non deve scopare per terra. So sniffare la bamba. Vedo che lei non capisce un emerito cazzo. Ho perso solo tempo. Arrivederci. Aspetti, 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 so uccidere le mosche.